L'agonizzante Consiglio Comunale di Barretta ha approvato gli equilibri di bilancio e si è salvato dallo scioglimento. Appena 12 i voti a favore, il minimo indispensabile. L'ennesima dimostrazione di pressapochismo, irresponsabilità e inettitudine di un Consiglio Comunale ridotto a mero esercizio di ripiche personali, bassa demagogia, improbabili esercizi dialettici in idiomi sconosciuti, squalli da vetrina populista per la ricerca di voti e visibilità in vista dell'imminente campagna elettorale. Oltre ai 12 apostoli erano presenti i socialisti che hanno inaspettatamente abbandonato l'aula insieme agli unici tre consiglieri dell'inutile centrodestra presenti. Come avevamo detto qualche giorno fa, se il Consiglio si fosse sciolto definitivamente sarebbe stata un'eutanasia indolore visto che resta in vita praticamente a sua insaputa con le responsabilità dell'andazzo di questi anni che non sono solo della maggioranza ma dell'intero Consiglio Comunale. Come se non bastasse l'amministrazione è destinata a vivere a breve altri momenti di tensione. Ieri infatti è arrivata al sindaco una pesante diffida da parte della soprintendenza con la quale viene invitato entro cinque giorni, quindi entro la fine della settimana a intervenire su tutti i deors abusivi o non in regola appena la denuncia alla Procura della Repubblica. Una diffida che mette cascella con le spalle al muro considerando che in allegato ci sono le foto delle attività non in regola che eliminano ogni possibilità di equivoco sugli interventi da fare. Una sorta di album che è immortale ai sercizi che vanno da Piazza Castella a Piazza Plebiscito, da Piazza Federico di Svevia a Piazzetta di Sfida, a Piazza Marina, alla Piazza della Cattedrale, da Corso Garibaldi a Via Cialdini, a Via Nazareth, persino a Vicogloria e saltiamo molte strade. Una situazione che impedisce qualunque volontà dilatoria magari per far trascorrere almeno il mese di agosto prima di intervenire. Sarà ora il comando della Polizia Municipale a cui la diffida è stata inviata per conoscenza a dover adempiere al delicato intervento. Inutile dire che non mancheranno proteste e contestazioni. Siamo fermi difensori del rispetto delle regole della fine del Far West e abbiamo registrato con soddisfazione la recente approvazione in Consiglio Comunale del regolamento per i Dei Ors che fissa regole certe. Avevamo anche scritto che bisognava dare agli esercenti il tempo di adeguarsi, quel tempo che la diffida della soprintendenza ora nega. Diciamolo, un pizzico di buonsenso in più non sarebbe apparso fuori luogo. Oltretutto problemi con i Dei Ors riguardano molti altri comuni. Saremo curiosi di sapere se a tali sindaci è giunta la stessa diffida corredata da album fotografico, analogo a quello di Barretta.